Benvenuti avventurieri. Oggi trasformeremo Starlight di The Boys in un potente personaggio di Dungeons & Dragons, esplorando le sue abilità luminose e il suo coraggio leggendario nel nostro mondo fantastico. Statistiche di Starlight in D&D Forza, 18. Starlight ha dimostrato una notevole forza fisica nel suo mondo, riuscendo a combattere e resistere a minacce fisiche significative. Questa forza le permette di affrontare i nemici corpo a corpo e di proteggere efficacemente gli alleati. Destrezza, 12. Anche se Starlight è agile e capace di reagire rapidamente, il suo stile di combattimento e le sue abilità sono più focalizzati sulla forza e sulla luce divina piuttosto che sulla destrezza pura. La destrezza media riflette una competenza adeguata senza essere la sua caratteristica principale. Costituzione, 16. La sua resistenza fisica è impressionante, come si vede dalla sua capacità di sopportare danni e recuperare rapidamente. Un'alta costituzione le permette di mantenere la resistenza necessaria per affrontare battaglie prolungate e resistere agli attacchi. Intelligenza, 12. Sebbene sia sicuramente intelligente e capace di strategie efficaci, la sua principale forza risiede nella saggezza e nel carisma. Un'intelligenza media riflette una buona capacità di apprendimento e comprensione senza essere il suo punto focale. Saggezza, 16. Come Chierico, Starlight deve avere una saggezza elevata per poter utilizzare al meglio le sue abilità magiche e per comprendere le esigenze e i pericoli che la circondano. La sua saggezza le permette di prendere decisioni ponderate e di guidare gli altri con giudizio. Carisma, 17. Il carisma è forse la caratteristica più distintiva di Starlight. È una figura pubblica amata e rispettata, capace di ispirare e motivare le persone. Il suo carisma elevato le permette di influenzare gli altri, ottenere il sostegno della comunità e comandare con autorità. Sintesi. Queste statistiche catturano perfettamente l'essenza di Starlight come un'eroina forte, resiliente e carismatica, che usa la sua forza fisica e le sue abilità divine per proteggere e ispirare gli altri, mentre la sua saggezza e intelligenza le permettono di navigare nel mondo con discernimento e compassione. Razza. Umano. I umani in D&D sono noti per la loro versatilità e capacità di adattarsi a diverse situazioni, proprio come Starlight. Questo riflette la sua capacità di affrontare una vasta gamma di sfide e adattarsi rapidamente a nuove circostanze. Origini. Starlight, nel mondo di The Boys, è umana di nascita. Mantenendo la sua razza umana, rimaniamo fedeli alle sue origini e alla sua esperienza di vita. Bonus alle statistiche. Gli umani ricevono un bonus a tutte le loro statistiche, rendendoli una scelta equilibrata e ideale per una persona come Starlight, che è abile in diverse aree. Classe. Chierico. Dominio della luce. Il dominio della luce è perfetto per rappresentare i poteri di Starlight. Come Chierico di questo dominio, ha accesso a incantesimi e abilità che spruttano la luce e l'energia radiante, che rispecchiano i suoi poteri di manipolare e generare luce. Come Chierico, Starlight ha capacità di guarigione che riflettono il suo desiderio di aiutare e proteggere gli altri. Questo si allinea con la sua natura compassionevole e il suo ruolo di eroina. I Chierici del dominio della luce non solo infliggono danni con la luce, ma possono anche proteggere gli alleati con abilità come l'incantesimo luce del giorno o guardiano spirituale. Questi poteri rispecchiano la capacità di Starlight di difendere gli altri e creare un ambiente sicuro. Incantesimi come fiamma sacra e luce sono direttamente correlati alle abilità di Starlight, permettendole di combattere i nemici con attacchi di luce e illuminare l'oscurità. Background. Eroi popolare, Annie è cresciuta con il desiderio di diventare un'eroina e salvare le persone, il che si adatta bene al background di eroi popolare. Annie January, conosciuta come Starlight, è nata in un piccolo villaggio di campagna chiamato Downs Rich. Sin da bambina, Annie ha mostrato un'incredibile connessione con la luce divina, un dono che ha lasciato i suoi genitori e i compaesani sbalorditi. Crescendo, le sue abilità si sono manifestate sotto forma di luce radiante e un'incredibile capacità di guarire i feriti, facendola diventare rapidamente una figura amata e rispettata. Ora, come eroe popolare, Starlight viaggia per il reame, combattendo le forze delle tenebre e portando speranza ai bisognosi. Con la sua luce radiante e il suo cuore coraggioso, Annie affronta ogni sfida con determinazione, sapendo che la sua missione è proteggere i deboli e difendere il bene. Abilità di Starlight in D&D. Persuasione. Essendo una figura pubblica, è molto brava a convincere gli altri. Starlight è una figura pubblica amata e rispettata. Nel mondo di The Boys, il suo carisma e la sua capacità di parlare in pubblico sono fondamentali per il suo ruolo. Può ispirare e motivare le persone, convincendole a seguirla o a sostenere la sua causa. In D&D, l'abilità di persuasione riflette questa capacità di influenzare e convincere gli altri, sia in contesti sociali che in situazioni critiche. Atletica. Ha una forza notevole e può combattere fisicamente. Starlight ha dimostrato di avere una notevole forza fisica e resistenza. Ha partecipato a combattimenti corpo a corpo e ha dimostrato una grande capacità atletica. L'abilità atletica in D&D riflette la sua forza fisica, la sua capacità di correre, saltare, arrampicarsi e combattere efficacemente. Questa abilità è essenziale per le situazioni in cui è richiesta una prestazione fisica notevole. Percezione. Annie è attenta ai dettagli e ha una forte capacità di percepire il pericolo. Nel mondo di The Boys, la sua consapevolezza situazionale le permette di anticipare le minacce e di reagire rapidamente. In D&D, l'abilità di percezione rappresenta questa capacità di notare piccoli dettagli, ascoltare suoni impercettibili e percepire la presenza di pericoli nascosti. Questa abilità è cruciale per un avventuriero, consentendo di evitare trappole, individuare imboscate e rilevare nemici nascosti. Equipaggiamento base. Arma del Chierico, un'arma semplice che può canalizzare i suoi poteri di luce. Armatura di piastre, un'armatura robusta che le offre protezione. Simbolo sacro, un emblema che rappresenta la sua connessione con la luce. Incantesimi del Chierico. Trucchetti, luce, luce raggiante, sacro fiamma. Incantesimi di livello 1, parola guaritrice, benedizione, scudo della fede. Incantesimi di livello 2, ristorazione minore, raggio radiante. Incantesimi di livello 3, luce del giorno, fiammata. Incantesimi di livello 4, guardia di luce, tempesta di fiamme. Talenti di Starlight. Leader ispiratore. Questo talento permette a Starlight di ispirare il suo gruppo, conferendo loro punti ferita temporanei prima di un incontro. Come figura pubblica e ispiratrice, Starlight ha la capacità di motivare e incoraggiare gli altri. Questo talento riflette la sua abilità di sollevare il morale e preparare mentalmente il suo gruppo per le sfide che devono affrontare. Robusto. Aumenta i punti ferita massimi di Starlight, conferendo una maggiore resilienza in battaglia. La resilienza fisica di Starlight è evidente nelle sue capacità di sopportare danni significativi e continuare a combattere. Questo talento rappresenta la sua forza interiore e la capacità di resistere agli attacchi. Resistente. Starlight guadagna un bonus a un tiro salvezza di sua scelta, aumentando anche il relativo punteggio di abilità. La sua capacità di resistere a effetti dannosi, sia fisici che mentali, è una parte fondamentale del suo personaggio. Questo talento rappresenta la sua determinazione e resilienza. Guaritore. Permette a Starlight di curare efficacemente i suoi alleati utilizzando un kit da guaritore, conferendo un bonus ai punti ferita curati. Oltre ai suoi poteri offensivi, Starlight è anche una guaritrice. Questo talento migliora la sua capacità di fornire cure e assistenza medica ai suoi compagni. Grazie per aver guardato. Se ti è piaciuto vedere Starlight trasformata in un potente chiarico di D&D, lascia un like e iscriviti per non perdere altri video sui tuoi eroi preferiti. Che la luce guidi il tuo cammino. Alla prossima avventura. Grazie per aver guardato.